benvenuti a radio parco il notiziario del parco dei castelli romani realizzato in collaborazione con meta comunicazione le notizie sabato 4 maggio partenza alle ore 9 alla scoperta delle antiche sorgenti di rocca priora una passeggiata tra i boschi durante la quale si apprenderanno i metodi di lavorazione dei cedui di castagno nomi e aneddoti sulla flora e fauna locale la visita è a pagamento comprensiva di prodotti tipici locali per info 320 7871831 sempre sabato 4 maggio con partenza alle ore 9 si va alla scoperta di segni ed ecchi di remoti insediamenti nel bosco di lariano una escursione dove sarà possibile osservare tracce di epoca romana la visita è gratuita per info 347 4597026 infine domenica 5 maggio doppio appuntamento ad ariccia alle 10 e dalle 17 con visita guidata e letture sulle tracce dei viaggiatori del grand tour presso la locanda martorelli la locanda accoglierà i visitatori con un nuovo allestimento museale dedicato alla storia della città alla via appia antica e ai viaggiatori del grand tour la visita è a pagamento per info 388 3636 502 dal parco dei castelli romani è tutto appuntamento al prossimo notiziario